Intanto buonasera, la cosa più bella è che quest'anno la struttura dell'albero, che fa parte sempre di un arredo urbano, ha continuità dell'installazione che è già presente, quindi è dedicata a paesaggi di luce, tutto interamente al parco di Porto Conte. L'installazione sarà delicatissima, nel senso che abbiamo sempre il tema degli uccelli, che questa volta non saranno colorati ma completamente bianchi, bianco il colore della pace. Le gabbie completamente aperte per dare questo senso di libertà e poi ci sarà una serie di interventi come integranti di stelle realizzate completamente in lame dorato che rendono poi tutto l'insieme gradevolmente visibile e lucicante per l'installazione.